You got her involved just for that? Vito, you were an insensi. No. Noi non siamo uomini. Siamo più che uomini. In questo mondo quel genere di cazzate serve solo a una cosa. Far ti ammazzare. Allora... Sei pronto per il tuo destino? No. Rispetto al solito, questa serata è stata anche troppo movimentata. Ammetto però che sembrava di essere tornati ai vecchi tempi. Noi tre che esploriamo un angolo di foresta mai visto prima. È da un po' che non ti unisce a noi, se è questo che intendi. Oh, beh... Ero solo stanco, credo. Quando hai visto una caccia, le hai viste tutte. Come fai ad essere stanco se non dormi mai? Ci sono altri tipi di stanchezza, ragazzo. Capirai con l'età. Ora riposate come si deve, fratelli miei. Al mattino è tutto più luminoso. Cos'è stato?! Prendi l'arco! Tu chi sei? Posso entrare? Ho dell'idromele. Non mi troveresti di compagnia. Sono sicuro che avremo molte cose di cui parlare. Non mi troveresti di compagnia, non mi troveresti di compagnia, non mi troveresti di compagnia. Non mi troveresti di compagnia. Osto non mi troveresti di compagnia. Non mi troveresti di compagnia. Oh, no. Potevi dirmelo prima che lo versassi. Perché sei venuto? Per una visita di cortesia. Tu mi sembri una persona calma e di buon senso. Lo sei? Una persona calma e di buon senso. Se è il momento di restare calmi... Direi che il momento richiede la calma. Già. Sì. 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 Tu sai chi sono. Prima dell'arrivo dell'inverno ci sono state delle incomprensioni. Deplorevoli. Ma ora abbiamo tutti le idee più chiare su chi abbiamo davanti. Ora, quello che hai fatto ai suoi figli era... Autodifesa. Morire è ciò per cui noi a Esir viviamo. E poi, sinceramente, erano degli incapaci. E invece Baldur? Lui era importante. Era il mio miglior segugio. Mi era vicino. È vero, era partito di testa, certo. Ma lui mi era utile e ora non c'è più a causa tua. Mi segui? Tu sei in debito. Con te non ci si diverte più. Che cosa vuoi? E se dicessi la pace? Come vede la pace questa stimata vecchia gloria del Dio della guerra? E se non ci uccidessimo a vicenda? E se tu restassi a casa a spassartela? Senza attaccare briga con me. E io farò lo stesso con te. Questo significa che quello là... Quello là deve smettere di cercare Tir. Già. Sappiamo cosa stai combinando. Devi smetterla. I vecchi metodi di Tir sono morti. Lui è morto. Capisci? Tutto qua. Così siamo pari. Renderò l'offerta più allettante. Ti farò tenere il prigioniero che tu mi hai sottratto. Proprio così. Lo so che sei qui da qualche parte, stronzetto dalla parlantina sciolta. Perché dovremmo credere alle tue parole? Quando mai le tue promesse hanno avuto valore? Eccolo lì, il mio vecchio complice è sodale. Ha perso peso. Se lui ti assicura che la neve è bianca, sta mentendo! Che saggezza è mai questa? Possibile che la testa più sapiente non veda al di là del suo naso? Che tutti vogliamo la stessa cosa? E va bene. Ecco un'offerta di cui puoi fidarti. Salterò il tuo debito con la mia ex. Terrò Freya alla larga da te. Metterò tuo figlio in salvo. È questo che ti preme? Giusto? Beh, che ne dici? No. Non metterci tutto il giorno. Finalmente. Finalmente. Tu non sei di queste parole. Qui c'è la tradizione dei pagamenti di salvo. Prendo un pezzo di te per ogni pezzo della mia famiglia che mi hai sottratto. Poi, imparerai. Quello era per Baldur. Ora mostrami cosa sa fare come avuto assalzino di me. Non cercai lo scontro con tuo fratello. E chi se ne fuga? Mi offendi se non ti impegni. Conosci il mio passato? Il fantasma di Sparta. Certo. Allora sai di cosa sono capace. Fammi vedere. Finalmente una logra. Speravo di vedere le tue l'arne. Non arriva il rotto comando. E tu eri un dio della guerra. E tu eri un dio della guerra. Dovresti essere più forte. Guardati, provi a ricordarti le vecchie mosse. Sei davvero un fallito. Sei un insulto ai miei figli. Assurdo che tu li abbia sconfitti. Scusa per la tua statua, dir. Moralista, Makukku. Non esiste gioco senza gioco sporco. Giusto? Hanno iniziato i tuoi figli. Bene. Invecchiati di più. È stato il caso? I miei figli sono morti per questo. Idiota! Pensi di venire qui? Diventare padre? Pulirti la coscienza? Non funziona così. Tu sei un distruttore come me. Oh no! Decido io quando è finito. Non me ne vado finché non lotti veramente. Giù! Non lo so No! Strami la bestia destra udita! Ma questo sarebbe il Dio che ha ucciso parte o più una pesa. Per Modi! Lui non è mai stato una tua priorità. Che cazzo hai detto? Modi ci ha cercati perché ti temeva. È morto a causa tua. Oh, ecco un padre, Mosel! Mi è familiare. Ma che... Non importa. Ora di sfocciarti le mani! Non me ne frega un cazzo dei tuoi consigli, Matera! Hai iniziato tu! Voglio il Dio per la guerra! Io la finirò! E tu avresti ucciso i miei ragazzi! Mostrami chi sei! Astuto! Ma non abbastanza! Questo sarebbe il Dio che ha sconfito! Ora sì che ragioniamo! Tutto qui? Avevi appena iniziato a combattere! È questo l'uomo che ha affrontato Sigrun, la regina delle Valkyrie! Capisco come hai fatto a uccidere i miei figli, persino in questa versione minore di te. Ma io non sono come lui! E tuo figlio? Il padre di tutti i abrogenti per lui! Eccolo qui! Eccolo il Dio della guerra! Hai pagato il tuo debito di sangue! Ci vediamo! Te l'avevo detto che ce la faceva! Kratos! Siamo Sindri e Brock! Che battaglia! Possiamo... A casa! Ora! Odino è con Atreus! Oh no! Preparo una via di fuga! Forza! Non ci vorrà molto! Andiamo da Atreus! Grazie! Grazie!